Allora, che cosa fa nascere un social network? Questa, dal mio punto di vista, è la parte più disturbante della lezione, perché i social network moderni e quindi centralizzati sono il frutto di una visione antropologica basata sull'idea che le persone si possano categorizzare per prevederne e orientarne il comportamento. In altri termini, dove il mondo dei newsgroup, il mondo di IRC, era un mondo ancora una volta basato sulla libertà della persona di essere quello che voleva, di relazionarsi con gli altri come preferiva, oggi i social network creano ancora una volta l'ennesima gabbia dorata, che come vi ho detto può essere una gabbia ma è dorata, può essere dorata ma è una gabbia. Quindi nella sostanza il presupposto antropologico sulla base del quale si costruiscono sistemi centralizzati del genere è quello del considerarci dei cani di Pavlov un po' più evoluti o forse un po' meno evoluti. Come detto, ogni social network soddisfa un'udienza in termini di età, interessi e canali di comunicazione. Tutto questo è finalizzato non a dare una migliore esperienza, una migliore fruizione del servizio, come pure si legge nelle varie informative sul trattamento dei dati personali. Ti facciamo la radiografia e la risonanza magnetica perché ti vogliamo dare la migliore esperienza possibile nella fruizione del nostro servizio. Non è così. Tutto questo è finalizzato alla creazione di una riserva di caccia alla quale nessuno può accedere tranne il signore, il latifondista, il proprietario della riserva di caccia che decide se oggi caccia la volpe, domani caccia il capriolo o il cinghiale, ma comunque caccia qualcuno o qualcosa. La creazione di un social network è strettamente quindi connaturata al concetto di cluster, cioè alla possibilità di catalogare, di raggruppare più individui in determinate categorie. Come ce li metto? O chiedo loro di dirmi quali sono le loro preferenze, o molto più subdolamente cerco di capire io quali sono le preferenze. E qui cominciamo a inserire il concetto di privacy intesa come protezione delle informazioni personali. In altri termini ciascuno di noi ha una sfera personalissima che non condivide con nessuno e al contrario ha una parte pubblica che è quella che garantisce, che consente l'interazione con gli altri. Chi di voi ha studiato la tragedia greca sa che esisteva il concetto di persona. Cosa era la persona? La persona era la maschera che veniva indossata dall'attore e che attribuiva per il fatto di essere indossata un determinato ruolo alla persona che in quel momento si trovava sul palco. Quindi ciascuno di noi ha almeno una persona pubblica e una persona privata, ma in realtà il concetto è molto più articolato ed è ben spiegato dal modo in cui i giapponesi si relazionano con questi temi. Nel vettore che park dell'interazione sociale un giapponese è educato ad avere una sfera di comportamento che è solamente propria ed esclusiva e riservata a se stesso, nemmeno ai suoi genitori, ai suoi cari, alla sua famiglia. Poi c'è una sfera leggermente più ampia che quella della famiglia, poi c'è quella della sua cerchia sociale e poi c'è la cerchia dei tannini, cioè degli estrani, quelli nei cui confronti non c'è nessun tipo di relazione. Quindi l'obiettivo della profilazione non è tanto quello di prendere la persona pubblica, perché quella è facile. L'obiettivo della profilazione è quella di riuscire ad arrivare al cerchio che sta al centro di questi cerchi concentrici, cioè alla nostra individualità più intima, più personale, che è quella che muove il nostro comportamento. Perché se ci fate caso, quanto più parliamo di comportamenti pubblici, tanto più questi comportamenti sono sostanzialmente di tipo razionale. Venite a lezione perché dovete sostenere l'esame, state a sentire quello che vi dico perché è funzionale all'obiettivo che dovete raggiungere. Ma già quando decidete di andare a fare shopping e comprare qualcosa, le vostre decisioni sono meno razionali e più istintuali. Quando dovete decidere se una persona può diventare vostra amica oppure no, al di là dell'abuso della parola appunto sui social network, le decisioni diventano ancora meno razionali e sempre più istintive o comunque afferenti alla vostra sfera individuale e personale. Quindi l'obiettivo della profilazione, del motivo per cui si presuppone che l'accumulazione di dati consenta questo risultato. L'obiettivo della profilazione è arrivare a cogliere l'intimità della persona, perché se riesco a capire che cosa c'è dietro la persona, dietro la maschera, allora riesco a orientare il comportamento di quella persona per raggiungere il mio obiettivo, che può essere vendere, vendergli un costoso paio di cuffiette da cellulare oppure magari indurlo a votare per un certo politico oppure per un altro. Quindi non voglio dire che i social network siano l'impero del male, però è giusto che abbiate anche questa versione, questa lettura di questo fenomeno economico e industriale. Il che ci consente di anticipare un tema che è quello del capitalismo della sorveglianza. Avrete letto magari sui giornali che si parla estensivamente appunto del grande fratello, del capitalismo della sorveglianza e via discorrendo. Bene, a valle di questo ragionamento direi che il tema non è quello della sorveglianza, ma è quello del controllo. Serve a poco sorvegliare se di questa sorveglianza non me ne faccio niente. Quindi l'obiettivo ultimo non è sorvegliare per sorvegliare, ma è sorvegliare per modificare il comportamento. È intuitivo quindi, a valle di tutto questo ragionamento, concludere che perché un social network funzioni servono tanti utenti. Attenzione, è vero che la statistica ci consente di derivare delle conclusioni da un numero relativamente basso, da una popolazione relativamente ristretta in termini di numero, a condizione, come sapete, che il campione sia in equilibrio e via discorrendo. Però, dal punto di vista della finalizzazione del social network, i numeri contano. E qual è l'impatto di questa affermazione? Innanzitutto, che dal punto di vista tecnologico ci debba essere una diffusione globale della stessa piattaforma. Se volete, è lo stesso approccio Starbucks o McDonald's. In qualsiasi parte del mondo andate, perché prima solo gli americani e adesso purtroppo anche noi, dovunque siamo, cerchiamo il McDonald's o cerchiamo lo Starbucks. Perché sono familiari? Perché ci danno quella tranquillità per cui, in un luogo estraneo, c'è almeno un punto nel quale sappiamo che cosa trovare. E quindi, invece di arricchirci della nuova esperienza di andare in un posto che non conosciamo, facciamo magari 10.000 chilometri per andare in un posto che sappiamo esattamente che cos'è senza nemmeno andarlo a visitare, senza necessità di vederlo. Quindi, qual è il primo impatto della diffusione globale della stessa piattaforma? L'abbattimento della diversità. Ed è paradossale che questo accada in un momento nel quale il rispetto delle diversità è una parola d'ordine nella nostra diffusione globale della stessa piattaforma, significa diffusione globale degli stessi strumenti per farla funzionare. Perché questo? Perché se io ho degli strumenti differenziati che non sono in grado di accedere alla piattaforma, perdo la possibilità di guadagnare, di agganciare quegli utenti. Da qui l'alleanza fra i produttori di piattaforma e i produttori di strumenti, che portano, per esempio, aziende come Google a produrre il proprio smartphone Android, ad avere il proprio sistema operativo, che poi viene licenziato ad altri produttori. Ed è il motivo per il quale ci sono state, ad esempio, polemiche pesanti fra Facebook e Apple nel momento in cui Apple aveva deciso di limitare le funzionalità di raccolta dati possibili attraverso gli iPhone. Il che si traduceva in una limitazione dei dati che Facebook poteva arrivare ad ottenere. Una cosa un po' più subdola, che deriva dal controllo delle interfacce, è che dal punto di vista tecnologico, creare tanti utenti significa diffondere globalmente lo stesso modo di utilizzare la piattaforma. Se voi prendete un indiano di Bangalore, un messicano di Tijuana, un americano di New York, e li mettete in una stanza, non potete pensare a persone più diverse fra di loro, per antropologia, per cultura, per sensibilità, ma nel momento in cui arriva una notifica WhatsApp, fanno tutti quanti la stessa identica cosa, compiono tutti quanti lo stesso identico gesto. Questo è il potere dell'interfaccia. Se io sono in grado di imporre l'utilizzo di una certa interfaccia, se io sono in grado di imporre o di diffondere l'utilizzo della mia interfaccia, condiziono il comportamento delle persone, ma condiziono anche la loro possibilità di esercitare i loro diritti. A cosa mi riferisco? Se nell'interfaccia di funzionamento di una piattaforma di messaging inserisco il bottone o la funzionalità che abilita la cancellazione di un messaggio anche sul terminale del destinatario, ho dato alla persona, ho deciso unilateralmente di dare all'utente una possibilità appunto di eliminare messaggi inviati per errore. Se decido di non farlo, è evidente che questa opzione non è disponibile. E quindi l'utente subisce una limitazione del proprio diritto, come per esempio il diritto di non dover per forza subire le conseguenze di un messaggio non voluto, inviato in modo inconsapevole, ma lo decido sulla base di una mia valutazione del tutto personale. Controllo l'interfaccia e quindi il semplice fatto di controllarla mi consente di stabilire qual è la sfera di comportamento consentita all'utente. Pensate alla decisione di inserire un pollice verso a fianco di un pollice retto, cioè il dislike. Il fatto che un determinato contenuto attiri milioni di like non ci dà nessuna informazione su quante persone invece non lo hanno gradito. Decidere se inserire anche la possibilità di manifestare il dissenso è una cosa che per esempio dal punto di vista politico potrebbe avere delle conseguenze pesantissime. Immaginate, il governo fa un annuncio sul proprio profilo ufficiale, riceve a condizione che gli accessi siano genuini, che non ci siano bot e via discorrendo. Diciamo che viviamo in un mondo perfetto in cui tutti quelli che esprimono la propria opinione sono effettivamente persone umane e che manifestano il proprio pensiero in buona fede. Ora, il governo fa un annuncio di una certa scelta politica. Attira 8 milioni di valutazioni negative. 8 milioni non sono poche, nessun partito ha 8 milioni di votanti. A quel punto il governo che cosa fa? È coerente con la volontà popolare e fa marcia indietro? Prende atto di essere stato sfiduciato e il Presidente del Consiglio rimette il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica? Oppure non si preoccupa di questo dissenso e tira dritto sull'adozione di quella polisi annunciata? Capite come il semplice e soprattutto, considerato che tutto questo avviene su un servizio privato, non su una risorsa politica messa a disposizione dal Parlamento o appunto dal governo, diamo la possibilità ad un soggetto privato di interagire direttamente con le scelte politiche di un esecutivo. Attenzione, non sto parlando, per essere concreti, dell'uso della piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle, perché lì ci sono problemi di altro tipo che tra l'altro trattammo tre anni fa in un convegno proprio all'università al quale partecipò anche l'allora Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Se un partito politico decide di utilizzare una piattaforma online come alternativa al meccanismo dei congressi locali, regionali e poi nazionali per definire le proprie linee politiche, non è un problema, perché sono scelte interne alle dinamiche democratiche di funzionamento di un'aggregazione, di un corpo intermedio. Ma quando c'è una disintermediazione della rappresentanza politica e questa disintermediazione viene gestita da un soggetto privato che non controlla l'identità di chi esprime la propria opinione, anzi ha tutto l'interesse a polarizzare i contenuti, le posizioni in modo da generare traffico e dati, beh, allora qualche problema me lo pongo sulla idoneità o sull'accettabilità che un servizio di questo genere implica nel momento in cui si tratta di definire non solo comportamenti sociali, ma anche contenuti di tipo politico e giuridico. Quindi la diffusione dello stesso modo di utilizzare la piattaforma è l'ennesima declinazione della perdita di originalità e della perdita di individualità, cioè nella sostanza di una omologazione culturale in termini di riti, di comportamenti e di approcci che vengono etero determinati dagli interessi commerciali e industriali di un numero ristretto di soggetti.